Buon pomeriggio da Infostudio, mercoledì 8 agosto, ben ritrovati, sono le 13.50 e ben ritrovati con il nostro telegiornale. Proprio nel giorno in cui effettua un sopralluogo a Polsi in elicottero, partendo da Catanzaro in elicottero insieme al commissario di Calabria Verde a Luizio Mariggio per verificare lo stato di avanzamento dei lavori e ce ne occupiamo tra pochissimo con un servizio, proprio per una parte dell'inchiesta a stralcio su Calabria Verde viene chiesto il rinvio a giudizio dalla procura di Catanzaro del presidente della regione Mario Oliverio, l'udienza preliminare è fissata per il prossimo 12 dicembre, insieme a Oliverio sono indagati il suo ex capo struttura Franco Iacucci, core presidente della provincia di Cosenza, il sindaco di Acquaro Giuseppe Barilaro, il quale poi direttamente è la causa del rinvio a giudizio, l'ex assessore della giunta regionale di centrodestra della richiesta di rinvio a giudizio, l'ex assessore della giunta regionale di centrodestra Michele Trematerra, l'ex manager di Calabria Verde Paolo Furgioele, l'ex dirigente dell'azienda Franca Arria, appunto. Le accuse, come dicevo, riguardano la nomina di Barilaro in un distretto di Calabria Verde del Vibonese, secondo i magistrati, per far ottenere ai politici coinvolti un ritorno elettorale. E questa mattina, partendo dalla sede della protezione civile, il presidente della regione e il commissario Marigio hanno fatto tappa a Polsi, dove entro fine mese sarà consegnata questa l'assicurazione, quindi proprio nei giorni precedenti la festa della Madonna della Montagna, sarà consegnato il nuovo camminamento e presto, anzi Marigio lo ha anticipato, saranno effettuati anche altri interventi. Sarà pronta a fine mese, in occasione dei festeggiamenti per la Madonna della Montagna, la nuova strada che conduce al santuario di Polsi. Questa mattina il presidente della regione Oliverio ed il commissario di Calabria Verde, il generale Aloisio Marigio, hanno effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. L'intenzione è infatti quella di consegnare prima possibile l'opera alla comunità, che nei tre giorni del pellegrinaggio presso il santuario potrà anche avvantaggiarsi di un servizio di telefonia mobile di collegamento alla rete dati potenziati dall'installazione di un ripetitore mobile che potrà sostenere l'aumento di accessi dovuto all'afflusso di fedeli. Noi stiamo facendo un intervento, l'ho annunciato già a Polsi lo scorso anno, alla presenza del Ministro dell'Interno, alla presenza delle autorità civili, militari e del Vescovo. Stiamo facendo un intervento per riscattare Polsi. Polsi deve diventare il simbolo di una Calabria che cambia e per questo stiamo lavorando per cacciare Polsi dall'isolamento. Intanto attraverso Calabria Verde, che io ringrazio, ringrazio il generale Marigio per avere accolto questa nostra richiesta. Stiamo sistemando la viabilità per consentire l'accesso immediatamente. Già dai festeggiamenti dei primi di settembre che si tengono tradizionalmente a Polsi ci sarà l'accessibilità. Noi stiamo lavorando assieme alla Chiesa, assieme alle altre autorità dello Stato perché Polsi possa riscattare la sua immagine, perché lo sfregio che le organizzazioni indranghetiste hanno fatto appunto di questa importante realtà possa essere riscattato o definitivamente cancellato. La profanazione indranghetista del luogo sacro con i summit tra boss tenuti proprio presso il santuario deve rimanere un ricordo. Oltre che un collegamento essenziale, la nuova strada rappresenta anche un modo, non il solo, per rompere l'isolamento del quale la mafia ha bisogno per imporre la sua supremazia. E nessuno può saperlo meglio del generale Marigio, che preannuncia anche interventi di riforestazione, che prevedranno l'impiego degli operai di Calabria Verde. La criminalità domina se c'è isolamento, quindi noi stiamo cercando per quanto possibile con risorse proprie di Calabria Verde di dare una mano a quelle popolazioni. Ci sono altri interventi già programmati in quella zona di rimboschimento, ci sono interventi che cercheranno in qualche modo di porre fine a movimenti franosi, perché è una zona del tutto particolare, impervia e pericolosa per certi versi e quindi bisogna essere presenti sul territorio per forza di cose. È un nuovo corso quello di Calabria Verde, è una scommessa che abbiamo fatto, grazie al Presidente e alle risorse che ci vengono assegnate. Quest'anno ci doteremo anche di mezzi speciali per consentire certi tipi di interventi. In questo momento stiamo ricorrendo a noi a freddo e successivamente cercheremo di farlo direttamente noi con i nostri operai. È un'organizzazione difficile perché sono circa 5.000 persone da mettere in linea, però sono persone che rispondono, la maggior parte risponde, la maggior parte si impegna e quindi penso che qualcosa potrà essere dato alla Calabria. Dopo l'aggressione avvenuta 5 giorni fa ad un medico anestesista in servizio nel reparto di rianimazione da parte dei parenti di un malato che poi è deceduto, si è tenuta una riunione in prefettura a Crotone per fare il punto sulla sorveglianza dell'ospedale. Ebbene, la struttura sarà oggetto di costante vigilanza anche tenuto conto dell'importante afflusso di turisti per il periodo estivo. In particolare l'area esterna sarà presidiata con frequenti controlli da parte delle forze dell'ordine, mentre i reparti dell'ospedale ovviamente ed il pronto soccorso saranno monitorati con maggiore intensità dal personale di vigilanza privata, soprattutto nella fascia serale. Alla riunione con le forze dell'ordine ha partecipato anche il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Crotone Arena. Ieri nella cherella dello stadio Sioscida, l'utilizzo o meno con le strutture amovibili, la mancata autorizzazione della proroga all'uso delle strutture amovibili da parte della soprintendenza e nel dibattito si inseriscono anche polemiche più o meno dirette tra le parti in causa e è arrivato anche un parere autorevole, sicuramente autorevole quello di Vittorio Sgarbi che era qui a Crotone, in Calabria a Crotone, sia perché parte in causa anche in questo caso nella rappresentazione della traviata al Parco Scolacium, sia ancora come in questo caso critico d'arte. Molti formi sono le espressioni di Sgarbi, che fra l'altro è ancora un parlamentare della Repubblica, e Sgarbi che di solito difende più che a spada tratta e in modi spicci e bruschi l'arte, la cultura, i beni storici, l'archeologia, dice che questa volta si può fare un'eccezione, ovvero si può usare lo stadio e al tempo stesso cercare, magari approfittando proprio del nuovo impianto, di far venire fuori anche i reperti, di quindi sfruttare l'occasione di accoppiare lo sport e la storia e ha proposto Sgarbi di indire un referendum tra i cittadini di Crotone. Di sicuro dice, qui di certo non è lo stadio il male o il problema peggiore, tutto attorno si è costruito proprio in un'area nella quale i reperti insistevano. Indire è un referendum tra i cittadini di Crotone per capire chi è favorevole a utilizzare lo stadio e chi invece vuole chiuderlo in attesa che vengano portati alla luce i reperti archeologici. E la proposta lanciata da Vittorio Sgarbi, che ieri insieme al sindaco di Crotone Ugo Pugliese, all'assessore all'impiantistica sportiva Salvatore De Luca, ha visitato l'impianto crotonese la cui capienza, dopo gli ampliamenti successivi alla promozione in Serie A di due anni fa, non può essere sfruttata a causa della mancata proroga dell'autorizzazione a usare le tribune amovibili da parte della soprintendenza archeologica. Per Sgarbi, inflessibile fustigatore di ogni abuso a danno dei beni culturali, non si può impedire l'uso di una struttura per recuperare l'area archeologica, specie se si tiene conto che in passato non lo si è fatto e che tutt'attorno, fino ai primi anni Ottanta, sono stati costruiti decine di edifici di civile abitazione e numerose altre strutture, ben più tardi della costruzione dello stadio, la cui inaugurazione risale all'immediato dopoguerra. Sgarbi, che ha parlato di dictat astratto, ha anche detto che rappresenterà la vicenda in Parlamento ed ha suggerito di costruire anche il nuovo stadio nella stessa area, sfruttando i lavori per avviare nuove indagini archeologiche. I aperti archeologici hanno una loro vita che è diversa dalla nostra e se c'è uno stadio in un'area archeologica l'unica cosa che si può fare è riuscire a conciliare le due, non ha senso distruggere uno stadio per recuperare un'area se non l'hanno fatta prima, quindi abbiamo visto che ci sia qualcosa da sotto, l'occasione propizia è un negoziato fra chi fa lo stadio e una serie come quando si fa un qualunque intervento pubblico e quell'intervento che consente di recuperare un'area archeologica che viene valorizzata proprio dal fatto che è fatto un intervento, quindi i casi in Italia sono tanti e qualunque vetto diventa una limitazione alla storia di una città. Quello che è stato costruito qua intorno è talmente violento che è ridicolo pensare, dovevano pensare prima, come non hanno mai pensato a difendere il paesaggio dalle paleoliche, così non risultano da parte degli archeologi o dei politici attuali delle posizioni contro questa speculazione selvaggia che è qua intorno, la quale di per sé, anche se qui avesse un'area archeologica, la umilia, la reprime. Grazie per i contributi di Danilo Ruberto di Croton Vlog. La cronaca, un uomo è stato arrestato per i colpi di pistola sparati contro la casa di un anziano il 4 agosto scorso a Ciro a Marina. Secondo le indagini sarebbe stato proprio quest'uomo a sparare accusato di tentato omicidio, minaccia aggravata, ricettazione, accensioni ed esplosioni pericolose, detenzione e porto i regali di armi comuni da sparo e di munizioni. L'episodio, ripeto, risale a quattro giorni fa e sarebbe scaturito, secondo quanto i carabinieri hanno ricostruito, da un'accesa discussione, sembra, per questioni di natura familiare tra il fermato e la vittima. 30 grammi di marijuana, un giubbotto antiproiettile e, sorpresa, un drone sono stati trovati e sequestrati in un casolare abbandonato nelle campagne di Nicotera dai carabinieri. Il materiale è stato individuato nell'ambito di servizi mirati al contrasto della produzione spaccio di droga. Il drone, che verosimilmente è stato utilizzato per controllare e sorvegliare, è il terzo strumento del genere sequestrato dai carabinieri proprio nelle attività di contrasto alla produzione e dallo spaccio, ripeto, di droga. Mentre a Sant'Ilario dell'Oioni i carabinieri hanno trovato, controllando una zona di montagna, hanno trovato un fucile da caccia clandestino e oltre 250 munizioni di vario calibro nascoste in un rifugio ricavato in una parete rocciosa insieme a tre palette segnaletiche che verosimilmente risalgono agli anni 80. Due avevano lo stemma della Repubblica e una invece portava, riprodotta la scritta, Ufficio Tecnico Amministrativo Provinciale di Catanzare. Anche è stata trovata una vecchia targa automobilistica. Dal 27 agosto al 2 settembre torna Radicamenti e quest'anno ci sono dei bei nomi, fra l'altro Peppe Servillo e Roi Paci, che abbiamo visto a febbraio al Festival di Sanremo insieme, tornano in Calabria, questa volta però separati. Roi Paci con i suoi Aretuschi e Servillo terrà il concerto conclusivo il 2 settembre prossimo sul Monte Cocuzzo. Peppe Servillo, Roi Paci e gli Aretuschi a Edenzo Avitabile sono i nomi più noti contenuti nel cartellone del Festival Radicamenti, che si terrà a Mendicino dal 27 agosto al 2 settembre prossimi, col gran finale sulla cima del Monte Cocuzzo, dove è previsto il concerto di Peppe Servillo. Nel Borgo della Seta, a pochissimi chilometri da Cosenza, si potrà imparare, attraverso corsi gratuiti, a ballare la tarantella calabrese e la pizzica salentina, godere di momenti di discussione, di appuntamenti culturali e gustare le migliori specialità della cucina calabrese nei locali dei vicoli del centro storico. La grande novità dell'edizione di quest'anno è però la creazione, in sinergia col Conservatorio di Cosenza e col circuito Calabria Sona dell'Orchestra Calabrese di Musica Popolare, che debutterà proprio a Mendicino prima di iniziare a girare il mondo per trasmettere le tradizioni musicali calabresi. In linea con lo scorso anno abbiamo deciso di investire molto sui musicisti calabresi, ce ne saranno cinque gruppi calabresi, saranno i Tiradelitto, Quarta Aumentata, Valentina Balestrieri eccetera. In più avremo la fortuna di ospitare artisti di calabro internazionale come Roi Pace, Enzo Avitabile e Peppe Servillo. Continuiamo il messaggio che ci teniamo tanto a portare a mente che è quello dell'integrazione che la musica ha necessità di fare, perché per fare cultura bisogna fare appunto integrazione e mettersi a disposizione del territorio e di chi il territorio vive. E poi una delle cose che io amo di più ricordare è questo tentativo che faremo assieme a diversi partner, che è la formazione di quest'orchestra popolare, che non abbiamo ancora un nome definitivo, diciamo così, perché è difficile dare un nome a una cosa di questo tipo, però in realtà è un'orchestra che nasce in sinergia ovviamente con il Comune di Mendicino, con il Conservatorio Stanislao Giacomo Antonio di Cosenza e con Calabria sono, quindi sono tre realtà imprenditoriali, amministrazione e un ente di formazione che si mettono insieme e cercano di fare un esperimento credo che sia abbastanza, direi, importante per la riferimento di Calabria. L'intenzione, spiega il sindaco di Mendicino Antonio Palermo, è di stabilire sinergie positive con le grandi energie del territorio, per fare di radicamenti un grande contenitore della cultura e della tradizione calabresi. Un'edizione nuova, un'edizione che ritorna a fine agosto, inizi di settembre, un'edizione all'insegna ancora una volta della buona musica, delle tradizioni, dei valori, della cultura popolare calabrese. Un cartellone fatto di grandi artisti, di grande rilievo nazionale e non solo, ma anche tanti artisti emergenti calabresi e meridionali. Insomma, un mix perfetto per dire a tutta la Calabria, venite dal 27 agosto al 2 settembre nel nostro borgo a Mendicino a trascorrere una settimana di vacanza all'insegna appunto delle nostre radici e delle nostre tradizioni. Gli europei di nuoto e tuffi stanno andando abbastanza bene, si stanno svolgendo in Scozia tra Glasgow e Edimburgo, stanno andando piuttosto bene per la nostra nazionale, speriamo altrettanto per gli europei di atletica, al di là della delusione torto, ma qualche cosa, avete visto, proprio oggi comincia a muoversi. Dicevo, stanno andando bene gli europei di nuoto e tuffi. Primo o poi Giovanni Tocci ce la farà a trovare quel centesimo che manca per l'euro. Questo è il tuffo con il quale ha conquistato in sostanza la medaglia d'argento nel trampolino da un metro. Era accaduto anche due anni fa, era stato preceduto allora dall'Ucraino Kvasa, questa volta invece lo ha bruciato il britannico Jack Locker, però ha fatto un quarto tuffo davvero straordinario, ha ottenuto le migliori votazioni di tutta la serie. Poi però i primi due tuffi non erano andati molto bene, questo è Giorgio Cagnotto che lo applaude e comunque ormai il Cosentino è nel firmamento del panorama dei tuffi europeo e mondiale, perché vi ricordo il terzo posto ai mondiali dell'anno scorso dietro gli inarrivabili cinesi, Yan Fenpeng e Chao Hi. Quindi Giovanni Tocci ancora una volta medaglia d'argento, vice campione europeo, agli europei nel trampolino da un metro che ormai è la sua specialità anche se poi è ancora 23enne e con l'andare della carriera potrà dedicarsi anche agli altri trampolini alla piattaforma. E chiudiamo con il calcio, ieri sera il colpo annunciato era quello di Golemic, oggi il Crotone invece annuncia un altro, arriva quello del difensore Salvatore Andrea Molina, questo è il momento in cui firma il contratto insieme al presidente Brenna. Arriva dall'Atalanta a titolo definitivo, è un classe 92, quindi ha 26 anni e mezzo, è stato uno dei migliori giocatori della Serie B l'anno scorso, è un polivalente, è comunque un giocatore di fascia, può indifferentemente giocare sia a destra che a sinistra. 9 gli assist che ha messo insieme nello scorso torneo. Ieri invece era arrivato, quindi si rafforza la linea difensiva, era quello che aveva chiesto del resto del tecnico Giovanni Stroppa. Ieri sera l'ufficialità sull'acquisto del difensore serbo Vladimir Golemic, 27 anni, di Krusevac, nato in questa città, ha sottoscritto un contratto triennale a proposito Golemic, resterà quindi fino al 2021, oggi già si allena con i nuovi compagni, arriva dal Lugano, l'anno scorso è stato, anzi negli ultimi due anni, è stato un titolare inamovibile dalla formazione d'etica, ha giocato anche tutte e sei le gare che il Lugano ha disputato in Europa League. Per questa edizione è tutto, Francesca Rettondini oggi fa tappa a Serra San Bruno, tra poco una nuova puntata dunque del viaggio di Francesca, io vi ricordo invece che il telegiornale va in onda alle 19.40, grazie per averci seguito. Grazie a tutti.